Bentornati a 7 giorni in 70 secondi dove vi raccontiamo in pillole gli avvenimenti più importanti della settimana. Apriamo questa prima edizione del 2024 ricordando le nuove modalità per il ritiro dei medicinali nella farmacia del Duirio Casula. Dal 2 gennaio 2024, infatti, per ritirare il proprio farmaco è necessaria la prenotazione web sulla piattaforma dedicata. Prenotare è semplice, basta entrare nell'articolo sull'home page del sito www.aucaglieri.it, cliccare su link in evidenza e scegliere il giorno e ora più comodi per il ritiro, indicando un nome e cognome del paziente assistito, mail e un recapito telefonico. In alternativa, è sempre disponibile il link diretto nelle storie in evidenza di Instagram. Se non fosse possibile la prenotazione online, sarà comunque garantita la consegna dei farmaci in coda alla lista dei prenotati. La OU di Cagliari contribuisce alla campagna regionale di vaccinazione anti-covid-19 organizzando due sedute settimanali a gennaio e febbraio 2024. I vaccini vengono somministrati ogni lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13. La prenotazione dell'appuntamento deve essere effettuata tramite CUP regionale. Per approfondire, trovi l'articolo dedicato sul sito www.aucaglieri.it. Dopo una piccola pausa natalizia, torna il corso preparto organizzato dalla ginecologia e ostetricia del Policlinico Giulio Casula. Appuntamento domani, sabato 13 gennaio alle 10, nell'ola B del blocco G1 della cittadella universitaria di Monserrato. Si parlerà del percorso dal travaglio al parto assieme alle ostetriche. Questa settimana è tornato in onda il talk di approfondimento 15 minuti con. In questa prima puntata del 2024 abbiamo parlato di tumore all'utero con il dottor Marco Palomba, ginecologo del Policlinico Duirio Casula. Prossimo appuntamento è un martedì 16 gennaio, dove parleremo della sindrome dell'ovaio policistico con la professoressa Anna Maria Cugliesu. Come di consueto vi ricordiamo che potete seguirci su tutti i nostri canali social, su Facebook, Instagram, X, YouTube, LinkedIn e TikTok. Potete leggere le nostre news sul canale Telegram AOU Cagliari e per chiedere informazioni potete inviarci un messaggio su WhatsApp al numero 338 7194434. Buon fine settimana a tutti, noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo. Grazie.